Siamo con un nuovo H&D di Huawei, facciamo un'anteprima veloce in attesa di mostrarvi un'anteprima più approfondita, vediamo un po' la navigazione web di questo quad core, mentre carica vediamo un po' come è prodotto esteticamente, 8 megapixel, processore quad core da 1,2,1,5, fotocamera da 8 megapixel, con due LED flash e registrazioni video in full HD, display da 4,5 pollici in un H&D molto performante, qui, nella parte della galleria, un video, andiamo a vedere foto, un ottimo terminale, vedremo caratteristiche, ben detto, processore quad core da 1,2,5, ram da 1 GHz e adesso è tutto, ci risentiamo per una recensione più approfondita, un saluto a tutti, Simone e adesso viene accade Kyman lo e